Buongiorno, sono Antonio Altomonte, Business Solution Manager della divisione corporate di American Express. Oggi il mio intervento si è basato sull'ottimizzazione del capitale circolante e quindi nello specifico quelli che possono essere i vantaggi per le imprese di poter avere una linea di credito extra bancaria a costo zero, usufruendo di ben 50 giorni di dilazione e la possibilità quindi di spostare in avanti di circa 60 giorni i pagamenti e nello stesso tempo avere la possibilità per i clienti che vogliono incassare in maniera sicura attraverso la soluzione di poter incassare in maniera sicura e di anticipare anche gli incassi fino a 58 giorni prima della naturale scadenza. Questo è stato l'oggetto della mia presentazione oggi.